Cosa mi accusa? Di che cosa vengo accusato? Di avere detto che il Presidente Napolitano è il garante della trattativa Stato-Mafia. Io questo lo sostengo e lo ripeto. Napolitano è il garante della trattativa Stato-Mafia e per questo è stato rieletto ad un secondo mandato, proprio perché c'è in piedi il processo sulla trattativa e di conseguenza queste garanzie devono essere continuate a essere date. E non sono io a dire che Napolitano è il garante della trattativa Stato-Mafia. È stato quel mancino che si è presentato alla porta, al telefono del Presidente della Repubblica per chiedere protezione. E a chi si chiede protezione se non ad un garante? A chi doveva chiedere protezione? È questo che è stato fatto. E poi il Presidente Napolitano ha fatto quello che di più grave poteva fare. Ha richiesto la distruzione delle intercettazioni con Mancino, proprio confermando che in quelle intercettazioni potessero essere contenute delle cose che non potevamo ascoltare. Altrimenti mi chiedo perché avrebbe dovuto chiedere la distruzione delle intercettazioni se non aveva richiesto la stessa cosa negli altri casi in cui era stato già intercettato, come nel caso delle intercettazioni dell'Aquila con la protezione civile, eccetera. Qual era il motivo in più che in questo caso gli rendeva indispensabile richiedere la distruzione? E poi ha causato un vulnus gravissimo al prestigio della Presidenza della Repubblica. Io ritengo che il vero vilipendio alle istituzioni sia non delle persone che criticano un Presidente della Repubblica, ma il vero vilipendio sia di chi occupando una carica non la riesce ad occupare col dovuto rispetto per l'istituzione stessa. Perché nel momento in cui sono state distrutte quelle intercettazioni, chiunque potrà dire che quelle intercettazioni contengono qualsiasi cosa. Io potrei dire, se volessi, che in quelle intercettazioni si è parlato proprio della trattativa, in quelle intercettazioni estrapolando quello che Mancino ha detto all'Oris d'Ambrosio, estrapolando quello che gli ha detto, chiedendo proprio protezione dal Presidente della Repubblica, io posso dire che in quelle telefonate Niccolò Mancino ha esplicitamente chiesto direttamente al Presidente della Repubblica quella protezione e il Presidente della Repubblica, quello che noi abbiamo delegato a rappresentare quell'istituzione, non potrà mai dimostrare il contrario. Non potrà mai dimostrare il contrario perché quelle intercettazioni sono state distrutte. E questo è il maggiore vulnus al prestigio della Presidenza della Repubblica che lui occupa. D'altra parte la mia storia con il Presidente della Repubblica napoletano non comincia adesso, comincia da quando in un Natale, Capodanno di qualche anno fa, il Presidente della Repubblica aveva avviato le pratiche per concedere la grazia a Bruno Contrada, un altro che di trattativa qualcosa sicuramente sa, e stava per tirarlo fuori dal carcere, questo nonostante Bruno Contrada non avesse neanche chiesto la grazia, che credo che sia, me lo insegnano i magistrati, lo possono confermare, credo che sia una cosa essenziale per poter concedere la grazia. Non si concede di moto proprio da parte del Presidente della Repubblica. In quell'occasione io e mia sorella Rita protestammo vivacemente proprio col Presidente della Repubblica e da quella volta io e mia sorella Rita siamo spariti dal novero dei parenti di Paolo Borsellino. da allora negli interventi ufficiali che Napolitano ha fatto in occasione del 19 luglio, del 19 luglio quando da anni nessuno rappresentante delle istituzioni si presenta più in via da media. Roberto Scarpinato parlava di ipocriti che siedono le prime poltrone. Bene, per Paolo Borsellino non c'è quel pericolo. Grazie alle mie agende rosse, grazie alle agende rosse che arrivano da tutta Italia, in via D'Amelio questo scempio, questo osceno scempio degli avvoltoi che vengono a girare sul luogo della strage e che intanto depositano ipocriti e corone di fiori. non esiste più. Nessuna istituzione ha più avuto il coraggio di presentarsi in via D'Amelio. Sapete cosa fanno? Vanno il 23 maggio e contemporaneamente pongono una corona per Paolo Borsellino quando io sono sicuro e non sono in via D'Amelio. E addirittura per assicurarsi di non essere sicuro, perché io se ci fossi avrei fatto quello che stavo per fare quando l'ex Presidente del Senato, Schifani, si era presentato in via D'Amelio a porre una corona. Io stavo per bloccarla e per dirgli questa corona, andate a metterla davanti alla tomba di Mangano, perché quello è il vostro eroe. Grazie.